Oggi parliamo di Andrea Roncato e Stefano Orlando. Siete pronti? E allora andiamo a vedere cosa hanno combinato. In queste settimane si è spesso tornato a parlare del matrimonio finito tra Andrea Roncato che vedete in foto e Stefania Orlando, impegnata da un bel po' di mesi come concorrente del grande fratello VIP. Lui al momento si limita a fare l'ospite in qualche trasmissione televisiva. Entriamo nel vivo del discorso e andiamo a raccontare quello che è successo. Nel corso di qualche ospitata viene chiesto all'attore Andrea Roncato del perché il suo matrimonio con Stefania fosse finito. Cui visibilmente imbarazzato risponde che il loro matrimonio era finito perché ad un certo punto Stefania era andata via con un altro uomo. Conclude il discorso dicendo che era un qualcosa che lui si aspettava accadesse, che di per sé non era mai stato un bravo marito. Cuido di tale affermazione, Roncato è stato letteralmente preso di mira sui social dai numerosi fan della Stefania Orlando e non solo lui ma anche la sua attuale moglie, cioè Nicole, che pare abbia ricevuto addirittura minacce gravi da parte di haters. Questo continuo attacco mediatico ha prodotto sull'Andrea Roncato un ulteriore astio nei confronti della sua ex moglie, ritenendo che tali attacchi erano pilotati dalla Stefania Orlando stessa. Per tutta risposta l'attore ha iniziato a denigrare la carriera televisiva della sua ex moglie, accusandola di aver perso quel poco di popolarità acquisita a seguito del loro matrimonio, che nei vent'anni successivi le abbia fatto solamente due trasmissioni e vent'anni di vendite di materassi. Poi iniziare a tessere le lodi di quella che è stata la sua carriera cinematografica, con all'attivo ben 67 film e quasi 500 episodi di fiction. Non contento di ciò, continua a rincarare la dose, dicendo che trovava un qualcosa di vergognoso prendere parte ad un programma dove per VIP si intende gente che, per diventare famosa, ha mostrato parti intime. Qui credo si riferisca alla Giulia Salemi quando fece scalpore la sua presenza sul red carpet con un vestito che lasciava poco all'immaginazione, nota del redattore, ritenendo quindi i concorrenti del grande fratello VIP un branco di inutili che si credono VIP. Dichiarazioni davvero al veleno, queste di Andrea Roncato. Non solo vanno a colpire Stefano Orlando, bensì tutto il cast del grande fratello VIP. La risposta a queste affermazioni da parte dei social è stata veramente forte, è stata molto grave perché hanno iniziato ad attaccarlo sia lui che la sua attuale compagna Nicole con tantissime offese e anche minacce. Ora, cosa ne penso io di questa storia? Penso che lui si sia comportato in questa situazione da classico omuncolo invidioso. palesemente invidioso dei successi che sta riscuotendo la sua ex moglie che è una donna al momento ancora giovane e davvero molto bella, al contrario di lui che è in una netta fase calante. E patetico trovo anche il fatto che confronti le due carriere artistiche, la sua e quella della sua ex moglie. Dichiarando di aver partecipato a 67 film, io onestamente sti 67 film non me ne ricordo mezzo, mi ricordo solamente una sua piccolissima partecipazione in un film di fantozzi, però non è che lo sciderei tra i capolavori della cinematografia italiana, cioè quella parte che ha fatto lui, quel piccolo cammeo, anche perché era quello che era. Per i restanti 66 film onestamente non saprei cosa dirvi perché non me ne ricordo mezzo. Quindi direi che siamo alle solite. Uomini piccoli piccoli che non reggono al confronto e quindi attaccano, offendono, denigrano. Un atteggiamento veramente molto sbagliato perché non è denigrando gli altri che si va a dare valore a quello che è il nostro operato. Perché se sei un asino resti un asino. È che cambia più di tanto anche se vai in giro a offendere le persone. Eh amori miei, come direbbe qualcuno, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Voi avete seguito questa faccenda? Che idea vi siete fatti in merito? La nostra prima impressione è stata quella che quest'uomo sia una persona che covi tanto rancore e invidia verso questa donna sebbene abbiano divorziato più di 20 anni fa. Riescirebbe sapere cosa ne pensate in merito. Per quanto mi riguarda io lo trovo nettamente patetico. Sono fermamente convinta che queste interviste che ha fatto relative alla sua ex moglie se le poteva benissimo risparmiare perché ci ha fatto sempre comunque alla figura del rosicone. Bene, io vi lascio con questa bellissima immagine di Stefano Orlando con questo meraviglioso sorriso. A voi sempre grazie per l'attenzione che mi accordate. Vi do appuntamento al prossimo contenuto. Vi mando un bacio grande grande. Ciao a tutti da Gossip. Ciao a tutti.